Ciao a tutti, oggi si metto Ciao a tutti, oggi si metto Ciao a tutti, oggi si metto Ciao a tutti E c'è la grafica tutta nostra emissione E' un'immagine E' un'immagine Fai schifo Ma fisi La donna ragazzi arriva al livello 91mira Ho sposto questa cosa ma è un vissato non sono avanti ma come cosa ma è un vissato ma è un vissato ma è un vissato e le body refresh non è un vissato troppo pronto non è vero ma è un vissato ma è un vissato bello Grazie a tutti. 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 CBR4. CBR4. Bene. Usa come vuoi. L'altro abbiamo. Non abbiamo niente. Ragazzi, poi vedo se riesco a collegare l'account perché rivolgo le mie armi fiere. Beh, è già l'M4 abbastanza livellata come potete vedere Però comunque Devo riuscire a riavere le mie cose C'è la K al livello 18, si sblocca Io ho sbloccato da mille anni Questo, che cosa, perché? A caso, non like No, vabbè Mi sono accorto che quest'arma è praticamente un remake della K Guardate bene la canna È la canna della K Ha l'impugnatore della K E dietro c'è il caricatore Il caricatore è pure di una K Non è tipo 74 E la cosa sopra è pure della K Cioè, se la vedete bene è una K È una K bullpup Ovvero che è il caricatore dietro Ragazzi, la calca La K bullpup Sono felice Vabbè, comunque ragazzi Ho fatto una partita A molti giocatori Detto il match Un gioco delle armi Ne farei un'altra Ma già Oddio, già sono 17 minuti Vabbè, che non è troppo Però comunque Vabbè Io qua stacco Iscrivetevi Lasciate un mi piace E qua c'è il link Passi Che Di Vanguard E me l'hanno dato a caso Tra l'altro c'è Vanguard Che si guarda Non posso farlo a Vanguard Royale Che l'aereo è troppo frio Ma vabbè Arrivederci e ciao